Bella a tutti ragazzi, benvenuti al primissimo episodio multiplayer del canale e siamo in Call of Duty Ghosts, qui il gunner che vi parla vi chiederete sicuramente perché l'ho chiamato fail, vi spiego subito non sono bravissimo insomma in questo capitolo, andavo meglio in Black Ops ma semplicemente perché le mappe sono più grandi, a me non piace camperare quindi vado sempre in giro e la prendo nel culo in ogni angolo vai fratello, andiamo a spaccare tutto ma che cazzo bene, incominciamo molto bene assist eccolo, yeah bomba ma che palle andando di qua eccolo cazzo mi sta salendo il livello di omicidio ragazzi a me non mi va ricamperare è qui me lo sento a un accompagno cazzo spari mica è più rincoglimento di me questo lo sento, lo sento eccolo mi sento come egno fantasticissimi bella ma che cazzo di arma c'ha ci sono delle volte che io gli scarico un caricatore non gli faccio un cazzo, questi si girano e mi ammazzano con un colpo cazzo mi ha fatto la foto bella vedo la sua puzza schifosi vermi Gesù Cristo scimmia che urla buongiorno buonanotte cucù bella si inizia a girare bene adesso scimmia io ti ammazzo si vabbè la scatola l'ho uccisa almeno quella almeno l'ho uccisa poi cazzo io non ho delle granate io ho dei fottuti petardi che esplodono pure in ritardo si vabbè dai vaffanculo rido per non piangere spero che almeno quando mi hai distrutto il saltcom ti sia arrivata nascosta e ti abbia folgorato andiamo qua è Cristiano Ronaldo questo uh eccovi qua vabbè ma anche te fatti i cazzi tuoi aspetta lanciamo il mini cicciolo eh eh ma va quanto manca la fine ancora ne posso già più bella i loro 50 punti sono grazie a me eh ve lo dico già vi lascio immaginare chi è all'ultimo posto leggete anche voi quello che sto leggendo anch'io vero secondo round scandalosamente di nuovo su fog eh che vi devo dire hanno scelto loro parlando comunque seriamente ragazzi io non è che sto facendo finta eh cioè veramente ce la sto mettendo tutta ma non veramente non ce la faccio un giorno caricherò black ops vi farò vedere comunque me la cavo meglio meritata ti vedo ti vedo si si sto aspettando che muori eh il suo amichetto rompipalle da dietro lo scudiero toto ti lancio il mio mini cicciolo eh te pareva che va a arrivare qualcuno da dietro già un rambo del cazzo come cazzo è morto yeah si vabbè ma è dall'inizio della partita che è qui sto pirla qua ma esplora nuovi orizzonti fai un giro della mappa uno dei pochi che va in giro suca cosa ok che non conosco la mappa però mettere un cazzo di buco enorme così veramente oh no ma veramente quest'uomo è veramente triste ma fai un giro della mappa sempre questa non è più una modalità deathmatch questa per me è diventata una corsa campestre faccio altro che andare in giro non ce l'ho neanche provato guarda non ce l'ho neanche provato provo a camperare qua dentro io non ho dei proiettili io ho dei fottuti smarties ho delle palline di plastica non ho dei proiettili qualcuno che vuole fare un po' di carità grazie buon uomo bella un altro aspetta che lancio il mio petardo che esplode domani che cazzo sta facendo quello lì vabbè lasciamo perdere va odio odio in due li abbiamo sparato fotte sega proprio ho visto il mio compagno morire davanti ai miei occhi è stato terribile un colpo un colpo un colpo un colpo dove cazzo è magari dovreste dirmi se è la mia connessione il problema si cane padrone d'acciaio ah oh toh 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 yeah oh non avevo dubbi non avevo dubbi sul finale guarda non avevo dubbi ultima partita della serata perché vorrei strapparmi le budella dal nervoso uccisione confermata su bay view anche questa la prima volta che la faccio quindi dubito i risultati positivi anche in questo caso vediamo come va a prima vista la preferisco già di più come estetica come po' tutto come mappa rispetto a fog proviamo a mettere l'attrezzo fuori vediamo ecco va bene fa niente figo il carrellino comunque salve comunque l'apprezzo di più che cazzo occhio ah si ma anche io il sultano dei pirla proprio bestia mimetizzazione over 9000 anche questo non scherza come re dei ciula intendo te la confermo io l'uccisione credimi sulla parola forse non dovrei buttarmi a bomba a negarla non dovevo buttarmi a bomba c'è qualcuno sotto c'è qualcuno sotto c'è qualcuno sotto c'è qualcuno sotto c'era qualcuno sotto ok che è solo l'inizio però devo dire che non sta andando poi così male sta partita eh c'è che sto beccando veramente poca gente quei pochi che mi hanno ucciso comunque erano cioè o di gruppo o erano nascosti alla fine comunque non sta andando malissimo tragicamente come fogg prima almeno qualcosa di positivo c'è in questa partita oh ma ne trovassi uno una piastrina bella è mia ma che cazzo no non devi che mi ha buttato fuori no una partita che era almeno semidecente no vabbè meglio perché per stasera ho preso abbastanza calci nel culo vi invito a iscrivervi al canale mettete mi piace commentate condividete ci vediamo al prossimo video e ciao belli tra l'altro lo schermo è rimasto nero vabbè vi invito a iscrivervi al canale